allora vedi questo questo quadratino qui questo quadratino mi dice che questo colore è semi coprente perché mezzo pieno e mezzo vuoto vedi mezzo bianco e mezzo nero non è del tutto coprente non è del tutto coprente naturale ombra è pbr7 pbr7 è il nome del pigmento effettivo che uno quando dipinge dovrebbe sapere usare i pigmenti effettivi in genere questo tipo di serie che sono da studio sono simulati i colori non sono come dice delle copie non sono i colori originali quasi mai tranne che le terre perché le terre costano poco